L'allenamento è la parte fondamentale nella vita di un atleta professionista. Senza l'allenamento non ci sarebbero poi le partite. Quindi c'è tanta cura e tanta attenzione nel dettaglio. Per quanto riguarda la pallavolo un atleta professionista si allena anche 10 volte a settimana. Di solito la mattina è quella parte dedicata al proprio fisico, quindi la parte pesistica, la parte di corsa, tutta una parte di lavoro aerobico e anaerobico. Al pomeriggio si lavora invece con tutta la squadra al completo, col gruppo. Diciamo che la settimana standard parte il martedì mattina, visto che si gioca la domenica. Lunedì è il classico giorno di recupero. Martedì mattina lavoro, pesante. Martedì pomeriggio palla. Mercoledì mattina a volte lo si usa per fare tecnica, a volte no. Mercoledì pomeriggio, giovedì mattina, giovedì pomeriggio. Poi si incomincia a calare, arriva verso fine settimana, quindi venerdì sabato due allenamenti, con sabato diventato ormai un più una rifinitura. La domenica mattina ci si trova per preparare la partita, qualche allenatore fa fare palla, qualcun altro fa fare solo stretching, diciamo risveglio muscolare come si fa nei villaggi vacanza, per arrivare pronti la domenica pomeriggio. Ecco, questa è un po' la settimana standard del pallavolista. Assolutamente sì, soprattutto più il livello è alto, più bisogna appoggiarsi a dei professionisti perché si va a lavorare sui piccoli dettagli. Quando tutti sono forti, tutti sono fisicati, sono i dettagli a fare la differenza. Per cui avere a fianco dei professionisti che ti aiutano, dei professionisti che ti consigliano, è sicuramente la cosa migliore. A partire dalla preparazione fisica, dove ci sono fiori di professionisti che cercano di ottimizzare quelle che sono le tue capacità fisiche per evitarti infortuni. A partire dall'allenatore a tutto lo staff, che tutto il giorno lavora e studia per trovare i tuoi difetti e aiutarti a migliorare. A partire dallo staff medico che c'è intorno, perché un atleta non è soltanto prestazioni fisiche, ma è una macchina molto complessa, che deve essere tenuta sempre al 100% e per funzionare ha bisogno di star bene fisicamente, di non avere infortuni, di recuperare in fretta, di sentirsi in salute. Per cui, ripeto, la cosa importante è circondarsi da professionisti. Al giorno d'oggi un po' tutti millantano, diventano professori, ma la cosa migliore in qualsiasi campo, nello sport, come nella vita, come nella salute, è affidarsi a chi fa questo di mestiere e si va sicuramente nella direzione giusta. La pesistica, fondamentalmente, nella pola volo è la parte più importante, perché per arrivare a fine stagione, una stagione lunga, logorante, dove per nove mesi ci si alterna tra viaggi, allenamenti, partite, arrivare col fisico preparato è importantissimo. L'operazione fisica dura di solito otto settimane, la parte pesistica, nel precampionato. Questo vale un po' in tutti gli sport di squadra. E si immagazzina, si immagazzina benzina, si crea un barile, da cui poi durante la stagione si potranno attingere tutte le energie. Ci sono vari tipi di pesistica, chiaramente. Non si lavora solo per mettere massa. Nel caso della pola volo servono tante fibre rosse, quindi fibre che mettono potenza, ma anche tante fibre bianche, cioè fibre veloci, fibre che ti danno l'agilità, la velocità di movimento, la velocità di braccio, di rincorsa. Per cui è un continuo ricercare la perfezione. Si fanno a volte dei lavori sui massimali, che vuol dire lavorare con tantissimi chili e poche ripetizioni. Oppure altre volte si cambia il tipo di lavoro e si fanno più ripetizioni, ma molto più veloci. Dipende anche un po' dalla parte del campionato. Di solito le squadre a metà campionato fanno un rabbocco di benzina, diciamolo in maniera semplicistica. Cioè ci si trova, si lavora per 1-2 settimane a carichi massimali, la squadra sarà magari un po' meno performante in quel periodo, ma sa che quello che sta facendo gli sarà utile per il finale di campionato. Lo vedrete tantissimo nelle squadre di calcio. Di solito a gennaio-febbraio le squadre fanno un secondo ciclo. A pallavolo si tende a farlo magari prima dei play-off, quindi le ultime due giornate si sacrificano un pochettino. Magari ci sta la sconfitta per arrivare poi ai play-off con il massimo delle energie. Poi nel momento finale si tende a lasciare andare un po' i pesi a fare soltanto dei richiami per prevenzione, perché fare pesistica non vuol dire soltanto mettere massa, ma vuol dire anche fare prevenzione. Cosa vuol dire? Un legamento, un tendine della spalla, del ginocchio molto sollecitato, se intorno a un muscolo forte, a un muscolo potente, idem per la schiena, che lo protegge, è un qualcosa che all'atleta eviterà infiammazioni e dolori fastidiosi alle articolazioni, magari nei momenti chiave della stagione. Diciamo che faccio due distinzioni. L'atleta durante la stagione, quindi quando è a casa sua e gioca per il club, e l'atleta quando è nazionale. Durante la stagione sicuramente c'è molta più possibilità di essere liberi, di gestirsi liberamente e con intelligenza sempre, perché poi quello che mangiamo è anche quello che ci fa star bene, per cui non si può pensare che un atleta si strafoghi dal lunedì alla domenica di pizza, dolci, e poi arrivi la domenica in perfette condizioni. Non vuol dire per questo che l'atleta debba fare solo sacrifici. Ci sono sicuramente nella pallavolo, poi in un allenamento che dura tre ore, si bruciano tutte le tantissime calorie. Ci sono degli sport dove il peso è molto più importante, vuoi perché ti permette di rimanere dentro una certa categoria di peso, come può essere la box, la lotta o il canottaggio. Vuoi in altri sport dove più sei leggero, più le tue performance migliorano. Noi in questo siamo fortunati, ripeto, non vuol dire che non ci sia un dietologo che segue la squadra, almeno una volta al mese viene presa la massa grassa ad alcuni dei muscoli principali per vedere com'è il rapporto massa magra-massa grassa. Nella pallavolo per esempio c'è l'addome, il quadricipite, il polpaccio, tricipite, bicipite e pettorale. Insomma, c'erano i miei compagni che avevano il 3% di massa grassa, cioè praticamente inesistente. Se ne facessimo una costina da mangiare, mangeremmo ben poco. Qualcun altro con cui si mangiava di più, però ecco, insomma, il concetto è che l'atleta sa che tutto il peso superfluo è un peso in più che ci si porta dietro e che fa male a schiena e articolazioni. In nazionale la vita sicuramente è molto più controllata, sia in ritiro, sia in un hotel, quindi si mangia tutti insieme, si mangia tutti uguali. Le prime settimane servono proprio per spurgare tutte le schifezze della lunga stagione. Si tende a mangiare molto più controllati, si tende anche a essere veramente tirati e perfetti, tirati a lucido dal punto di vista fisico. Diciamo che ogni tanto si vedono i cambiamenti di qualche giocatore dalla parte di club alla parte di nazionale. C'è anche meno possibilità di uscire quando si è in ritiro, per cui anche la vita notturna e magari quei 3-4 vizi che si possono avere dopo cena o in qualche serata fuori in nazionale vengono completamente cancellati. Ahimè, sì, ti dico ahimè, perché avendo giocato, penso, 500-600 partite di alto livello, questo menù è diventato un incubo per me, no? Però è, diciamo che gli studi, le ricerche, anche qua la parte dietologa della medicina ha trovato un ottimo mix fra proteine e carboidrati per permettere all'atleta di arrivare nelle migliori condizioni possibili. Immaginiamo una gara alle 6 di pomeriggio classica standard. Ci sarà un pranzo, pranzo con pasta al dente, perché la pasta al dente permette di assimilare meglio a tutta la parte di proteine e carboidrati, o al pomodoro o in bianco. Poco olio, non era molto amato dai dietologi, però olio di oliva extravergine ci sta comunque sopra. Di secondo, una ridente petto di pollo alla Fantozzi, perché credo veramente di aver mangiato petto di pollo in ogni dove, in ogni quando, finché sia in Italia, va anche bene che vengono cucinati bene. All'estero si fa tanta fatica, pasta in bianco all'estero è mangiabile, però quello c'è e quello si fa, no? Quindi o petto di pollo, oppure bresaola con grana, che è uno dei classici, degli evergreen, direi. Con la carne buona che c'è in Italia, direi che io andavo spesso per bresaola e grana. E poi, per finire, una crostata di marmellata, dove lo strato di marmellata è pressoché invisibile. Ho visto arrivarci torte fatte di pasta frolla, però ecco, quello chiudeva un po'. E frutta, frutta volontà. Poi, prima della partita, verso le tre e mezza, la squadra veniva lasciata andare libera in camera di riposare. C'era chi dormiva, chi leggeva, chi si rilassava guardando la televisione. Alle tre e mezza lo spuntino più importante per avere una botta di energia prima della partita. Quindi anche qua, solita fetta di crostata con più o meno strato di marmellata, affettati, del succo fresco e direi poco altro. Ecco, questi sono però sicuramente alimenti che ti permettono di digerire in fretta, di non avere poi problemi e, se la partita va per le lunghe, di avere una scorta di energia a cui attingere durante la partita. Vestire la maglia della nazionale è sicuramente il più grande orgoglio per un atleta, ma anche il peso più grande, perché in quel momento tu rappresenti l'Italia, rappresenti qualcosa di più grande di te, rappresenti la passione di migliaia di ragazzi che fanno palla a volo come te e magari non hanno i mezzi fisici, non hanno fortuna o semplicemente giocano per divertirsi. Per cui ogni volta che metti quella maglia e senti sul cuore il peso di quel gagliardelto bianco-rosso-verde, sai che in quel momento tu giochi per tutti loro. E le prime volte non è facile, ripeto. L'emozione è tanta, ma anche l'importanza di quello che stai facendo è tanta, anche nei gesti, anche nel come ti comporti, soprattutto quando sei all'estero. Tu non sei più un individuo singolo, non sei più Paolo che fatichi da dieci anni magari per arrivare a un'Olimpiade e a giocarti una finale di un europeo. Tu sei la palla a volo, tu rappresenti la federazione, ripeto, e tutte le persone che ci sono dietro. Chiaro che è un peso, ma è anche un'emozione grandissima ed è stupendo. Quando poi hai la fortuna di vincere, di essere sul gradino più alto del podio, di sentire il tuo inno, sono quelle emozioni che spingono un atleta ad andare avanti anche nei momenti più bui, sono quelle emozioni che spingono un atleta a cercare di alzare sempre l'asticella per rimanere al vertice. Guarda, per fortuna di finali ne ho giocate tante, anche se poi è meglio perse tante. Giocare due finali dell'europeo, tre finali scudetto, una finale di Champions League, sono emozioni indescrivibili. Ripagano tutta la fatica che hai fatto durante l'anno, tutti i sacrifici, le notti passate in camera da letto a piangere, io avevo sei ernie di scali, e c'è stato un periodo dove ogni notte mi svegliavo dovendo fare stretching con le lacrime agli occhi, ho rotto il legamento della spalla, ho rotto quello della caviglia, per cui veramente arrivare a giocare, a vincere magari, sono emozioni indescrivibili. Ricordo una partita in Giappone, valida per la qualificazione olimpica, dove a fine partita ero talmente felice che semplicemente mi sono sdraiato per terra a godermi il momento e i rumori, tant'è che arrivò un mio compagno, uno proprio poco forte, un certo Andrea Gianni, che venne vicino e mi diceva Paolo ma non festeggi, e diceva sono talmente felice, sono talmente estasiato che non ho neanche la forza di esultare, però se devo pensare all'emozione più grande che mi ha regalato lo sport, è la cerimonia olimpica, è un qualcosa che ti entra nella pelle e non ti esce più. Io ricordo nel 2000 ero sul divano a casa, guardavo la nazionale sfilare la compagine italiana a sfilare a Sydney e con tutte le squadre precise che sfilano con la bandierina arrivano gli italiani e incominciano da cacciaroni a buttarsi a destra e manca. Io dentro di me pensavo siamo sempre i soliti zulu, ci facciamo riconoscere dappertutto, porca miseria. Tutto il mondo sfila dritto e noi dobbiamo fare i buffoni. Beh, quattro anni dopo dentro quella sfilata c'ero io, ricordo l'attesa, ricordo i movimenti per entrare nello stadio olimpico di Atene e ho un video dove dentro l'anticamera, praticamente l'antistadio, dieci secondi prima di entrare dentro urlo al mio compagno di stanza. Dammi, dammi, io non capisco più niente. Entriamo nello stadio olimpico e l'unica cosa che vuoi è far vedere a tutto il mondo che tu sei lì e hai raggiunto l'apice. E quindi, boh, credo che se tutte le nazioni sfilavano in fila per otto noi eravamo quattro file da cento, probabilmente, con dirigenti che ci urlavano, ci insultavano, chiedevano pietà di metterci in fila, ma niente. Io ricordo quella scarica di adrenalina come una schioppettata nella schiena, come un qualcosa veramente che ti entra dentro e non esce più. Vedi le luci delle telecamere accendersi, sai benissimo da atleta professionista quali sono le telecamere che stanno andando in diretta e quindi vedi la transumanza degli atleti che si spostano da una telecamera all'altra. Ecco, se mi dovessero chiedere cosa rappresenta per te lo sport, credo che quella sfilata, per quello che rappresenta, perché sei lì con atleti da ogni parte del mondo, sei lì con atleti cinesi, africani, sudamericani, con i loro costumi, con le loro usanze, ma tutti sono lì perché hanno una passione comune, perché tutti hanno avuto voglia di fare sacrifici e portare avanti il loro sogno giorno dopo giorno. E la stessa cosa vale poi nel villaggio. Chiunque incontravi, anche la marciatrice araba che per cultura deve magari correre con lo chador e tu ti chiedi come faccia, al lottatore polinesiano, davvero tutti sai che hanno fatto la tua stessa trafila, i tuoi stessi sogni, i tuoi stessi sacrifici e lì dentro diventa veramente ciò che lo sport è, un mondo di fratelli e sorelle dove tutti sono uguali e tutti competono, sì, per essere il numero uno, ma davvero in uno stato d'animo che è unico. Purtroppo, come ti dicevo prima, a fronte di tante finali sono arrivate anche tante sconfitte e io credo che a volte sia più facile perdere che vincere. È una cosa che mi ha insegnato il gruppo storico della Nazionale di Velasco. Se vinci, tu sei il numero uno e ti trovi in spogliatoio, festeggi, ma ogni istante dopo sei già lì che pensi e adesso? Perché quando tu sei il numero uno, gli altri faranno la gara su di te e tu da solo dovrai trovare qualcosa per migliorarti, ma quando vinci non è così facile migliorare. Quando perdi, in realtà, sul breve fa malissimo, ti senti male, senti crampi allo stomaco, ti senti brutto, senti proprio l'odore della sconfitta, però sai anche che hai un obiettivo, è molto più facile perdere, perché nel momento in cui perdi tu hai la sticella del tuo avversario che è qua e tu sai che se vuoi raggiungerlo devi per forza cambiare qualcosa nel tuo metodo d'allenamento. Quindi in realtà dalla sconfitta si imparta tantissimo e si ritrovano le energie per rinnovarsi, per ripartire, per provare a cambiare qualcosa, perché comunque cambiare fa bene, trovare altre strade, trovare altri metodi per provare a migliorare. Quando vinci invece diventa un po' più difficile, perché hai vinto, c'è il rischio di sederti e infatti si dice vincere è difficile, ripetersi è quasi impossibile. Soltanto i più grandi campioni, quelli che dentro di loro sanno trovare le motivazioni, sanno rimettersi in gioco, hanno la capacità di vincere ancora. Io quindi credo che la sconfitta, per quanto faccia male, sia uno dei momenti educativi più grandi dello sport. Pensate a pallavolo, tutti si allenano per vincere, ma solo una squadra vince, solo una squadra vince il campionato, tutti gli altri non sono falliti. Semplicemente, hanno probabilmente sbagliato qualcosa o devono ottimizzare delle risorse, devono fare meglio e l'anno dopo sicuramente ci riproveranno. Per cui credo che la sconfitta davvero fa un poco parte della nostra cultura accettare la sconfitta, ma se uno dà tutto sul campo vedrete che la sconfitta si accetta volentieri. Quando vedete un atleta piangere a fine gara è perché probabilmente dentro di sé sa che non ha dato tutto. Quando lo vedete sereno del secondo posto, godersi anche il secondo posto, il terzo, vuol dire che quell'atleta è conscio e consapevole del suo percorso e sa che anche quel giorno è riuscito a dare tutto. Purtroppo ci sono dei giorni dove l'emotività, la forma fisica, a volte anche come si scende dal letto può precludere una giornata o no nella testa di una persona. Quando vedete un atleta ha disperato a piangere è perché magari dentro di lui sa che quel giorno non è riuscito a dare tutto e sta già pensando a cosa fare per evitare di tornare in quella situazione. Visita il sito e iscriviti ai nostri canali. E tu, sei up?